Le motivazioni sono fondamentalmente due. La prima è ribadire con le campionature l'innovazione che portiamo nel mercato, nel nostro business, perché di innovazione si parla poiché è un prodotto che ha un'identità molto forte sul mercato nazionale. Essendo noi i genitori di questo prodotto perché l'abbiamo brevettato, sviluppato e gli facciamo parlare diverse lingue oltre a quella del nostro paese. E due perché riteniamo opportuno preservare la radicalità della nostra terra con una kermes come questa proprio a Bari che è la città che ci ha dato le origini e dove siamo fortemente radicati. Noi abbiamo sviluppato una frangisole, e quindi che è capace sia di portare a livelli successivi la finestra, cioè in una posizione capace di generare un guadagno energetico proprio perché ha un potere schermante molto forte, il fatto che è anche un sistema di antifrazione estremamente valido fino alla classe 4, il fatto di essere gli unici al mondo ad aver progettato un prodotto a lame distanziate largo fino a 6 metri, un prodotto capace di avere un colore differente per l'interno e per l'esterno come la Bicolor, ma soprattutto quello che noi portiamo in situazioni come queste è la prospettiva, perché di spalle a lei ora non è a favore di camera, c'è una nuova generazione, quindi gli investitori che investono risorse economiche e di sviluppo e di acquisizione di prodotto da parte nostra con noi hanno la possibilità di avere una prospettiva di generazioni di prodotte lungo tutta la vita della relazione tra noi e i nostri clienti.